Ciao a tutti ragazzi, io sono Gabri Costa, adesso qui a Sly Raccoon, in questo terzo episodio, visto che siamo sempre ad Haiti, ora facciamo questo livello, a casa per cena, ma non voglio mangiare, ma voglio scoprire perché si intitola così, guardate. Il fantasma che si intravede là mi ha contattato con la radio a unne spettrali e abbiamo stretto un accordo, ci ha promesso una chiave se riesce a far fuori 50 galline, suppongo ne abbia bisogno per prepararsi una zuppa di pollo, ma aveva paura dei cardi bomba, stai attento, o ti faranno a pezzi, pensi di farcela. Proviamoci ragazzi, sapete cosa si deve fare? Noi dobbiamo ammazzare 50 galline usando il bastone di Sly Cooper, ma bisogna fare attenzione ai galli bomba perché ci faranno a pezzi. Se ammazziamo 50 galline il fantasma ci darà la chiave. Noi dobbiamo avere 7 chiavi se vogliamo sconfiggere Miss Ruby, il terzo membro del quintetto diabolio. Avete visto che i galli bomba possono suicidarsi da soli? Però è meglio che ci muoviamo, non abbiamo tanto tempo. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è limitato. Se scade il tempo, poi abbiamo perso. Mi piacerebbe fare una zuppa di pollo. E vai, abbiamo vinto! E la chiave è tutta nostra! Spero che il video vi sia piaciuto. Ora potete cliccare su mi piace, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Un bacione, una rivederci e un ciao da Gabriele Osta. Grazie per avermi seguito. È stato bello questo livello a casa per cena.